... ... C'è che devo fare? Devo fare la ripresa del buffet, perché l'altra sera... ...abbiamo montato, cazzo di cane, ieri mattina, il bottino ha cambiato tutto, abbiamo sbagliato delle cose che abbiamo messo a comprare, io almeno non lo tengo per evitare che ci sia... ... 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